poi evoca il kraken molto forte e lo uccide ok prego inizia nuotando signor lì ottimo è fenomenale un bel giudizzo atene vai schifo ottimo ancora signor Liglia ottimo beh signor Liglia ora è incazzato nero con Biagioizio incazzato nero no no ancora signor Liglia cosa fa non se la tolga ora è incazzato nero con Biagioizio e poi votate il kraken insulti Biagioizio e poi fai votato il kraken Biagioizio vaffanculo e votate il kraken gridi gridi vaffanculo e votate il kraken deve insultare Biagioizio signor Liglia non ha capito vaffanculo 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 merda sei una merda ottimo e votate il kraken così signor Liglia adesso si avvicini me lo faccio forte alla telecamera e votate il kraken e votate il kraken ottimo complimenti signor Liglia grazie posso togliere si 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 riposi si riposi ottimo signor Liglia signor Liglia mi può salutare Carmelo grazie a tutti ciao Grazie a tutti.